In fuga con i carabinieri alle Calcagna, sbandano e finiscono contro una recensione rischiando di provocare danni ancora peggiori. Poi si danno alla macchia, a piedi scappando nelle campagne. Finito così con un'auto distrutta e due uomini in fuga, l'inseguimento scattato giovedì mattina fra Spessa e Arena Po, ignota l'identità degli occupanti della vettura, sebbene non manca chi collega l'episodio al contrasto dello spaccio di droga nelle campagne della Bassa Pavese. La vicenda è stata ripresa anche sui social network dove si sono registrati numerosi commenti sull'accaduto. Sono in corso accertamenti sulla proprietà dell'auto distrutta, mentre le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Stradella proseguono per identificare i malfattori anche con l'ausilio delle videocamere di sorveglianza presenti in zona.